A tutti buonasera, il tempo di domani sarà sempre in parte soleggiato con qualche nuvola di passaggio. Le temperature massime in leggero aumento previste tra 6 e 9 gradi mentre i valori minimi da meno 2 a 1 grado. Sulle Alpi ventilato da settentrione possibilità di nevischio mentre altrove asciutto.